Si trovava nelle campagne intorno all'aeroporto di Comis a bordo di un utilitario. Gli agenti della polizia lo notano e decidono così di perquisire il veicolo e il casolare di sua proprietà. All'interno ritrovano 50 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 5 kg e due pietre di cocaina del peso totale di 200 grammi, occultati nel mobilio del vano cucina. Il proseguo del controllo di polizia ha permesso di appurare che l'uomo, un 24enne, aveva allestito un vero e proprio laboratorio per immagazzinare, tagliare e confezionare le dosi di stupefacenti da immettere nel mercato dello spaccio. Oltre all'ingente quantitativo di stupefacente sono stati rinvenuti e sequestrati anche materiale di confezionamento, bilancino di precisione, banconote di vario taglio del valore complessivo di 6.500 euro ed una macchina elettrica conta banconote, tutti elementi inequivoci per classificare il rustico come punto adibito a deposito e confezionamento dello stupefacente. La droga sottoposta a sequestro penale avrebbe consentito all'uomo di guadagnare circa 120.000 euro se immessa nel mercato. All'esito di quanto rinvenuto, il giovane è stato condotto presso il commissario di pubblica sicurezza di Comiso e sottoposto al fotosentinalamento di polizia e gli altri atti rituali, quindi ristretto alla casa circondaria di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria, anche in considerazione dei precedenti specifici annoverati.